Grazie. 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 Sì, aspettiamo il caverno. Vediamo. Ci dovrebbe essere. Ciao ragazzi. Vediamo se arriva. Eccolo, quasi. E ora vieni da me. Siamo ancora in attesa. Ora Raida. Grazie. Sayonara. Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E vedo che è passato, eccolo qua, bomba caverna, grazie mille caverna di Platone e tutti gli altri 203 ragazzi che erano con lui e che sono venuti direttamente da questa parte. Ciao ragazzi, 21 anni fa caverna ti ama ragazzi, sono io che adoro caverna. Allora sto cercando ora, grazie per il follow, Yoshiro Togashi, grazie mille tutti, vabbè non so se ve l'ha detto nell'ultimo momento, però sono felicissimo di questa cosa. Aspettiamo lui, sayonara, grazie a Nez1926, Xcarmi, Fersark, ragazzi siete tantissimi, non me guasta Flanders, grazie mille per il follow, sayonara, tutti quelli che si stanno iscrivendo al canale, ragazzi siete grandissimi. E questa è lunga, democratics, social anarchy, grazie anche a te, RCO Jack, Fersark, un po' più di volume lo alziamo eh ragazzi, aspettate che lo alziamo ancora. Cerco di non andare troppo in alto per questo, però proviamo ad alzare ancora, ancora, ancora. Ora come mi sentite? Sayonara! RCO Jack, grazie anche per il followers, è da questa parte ragazzi, caverna ancora non arriva e dobbiamo vedere il perché. Eccolo qua, eccolo qua, dovrebbe essere... Sayonara! Eh, questo vuol dire solo caverna, solo il mitico caverna che... Ragazzi, eccolo qua! Non ci siamo assolutamente visti nelle ultime ore, ciao, ciao! Sayonara! Grazie Matthew Rufi Zero, grazie mille per il follower, grazie caverna per il mega ride, una cosa bellissima, grazie. Sayonara! Figura, figura, non ti preoccupare assolutamente. Come stai, come stai, come va? Bene, 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 bene. Infatti stavo seguendo la tua live e stavo dicendo che folle partire dagli anni 80. Sayonara! Per arrivare ai giorni nostri e cercare manga. Grazie Alessandro, Gin Leone, ne ho visto anche un altro, poi magari dopo riesco a ringraziare un po' tutti i ragazzi e tutti quelli che si stanno iscrivendo al canale. E come stai tu? Bene, sono molto bene, sono preso bene, mi diverto, faccio cose, vedo gente, non vedo nessuno, sono sempre chiuso dentro casa. L'unica compagnia è il maestro Araki qua, cartonato. Ti hanno fatto un bel cartonato, eh? Bellissimo. Sì, sì, sì. No, in realtà la compagnia più grande sono proprio le persone in live tutti i giorni a chiacchierare con loro, a passare il tempo con loro, sia nel gruppo Telegram che poi durante le dirette. Perciò, diciamo, non mi sento troppo solo, naturalmente, ma anche il contatto umano, però cerchiamo di risolvere quanto meglio possibile, diciamo, con un palliativo da un punto di vista tecnologico. Per quello che si può fare, alla fine, adesso. Per quello che si fa. Eh, già, perché purtroppo siamo in una situazione un po' strana, che poi, assurdo, proprio adesso vedo che la connessione non mi sta aiutando, però va bene, proviamo comunque. Non so se voi come mi vedete, purtroppo invece da questa parte non è il massimo. Io stavo seguendo la tua live e a parte che ti volevo dire proprio quello. Ti avevo conosciuto all'inizio, mi ricordo, il mese di agosto, ti ho invitato per la prima volta sul canale YouTube e ti conoscevo tramite un ragazzo che mi aveva detto Caverna di Platone, colui che strappa i manga. Cioè, ti avevo conosciuto così, ho detto, è un folle, è un pazzo. Cioè, uno che strappa i mangi, esiste sulla faccia della Terra, è un pazzo. Ti vediamo con la... Non solo esiste, è pure felice. Eh, vabbè, ragazzi, vi chiedo scusa per il lag. Ovviamente sono giorni che provo a contattare la compagnia qua che abbiamo a casa come wifi, ma adesso si è ripreso. Vedo che adesso si è ripreso. Vi chiedo scusa per quanto riguarda la parte video, spero che almeno la parte audio non dia fastidio. Non prende bene... Nella Caverna di Carmine non prende bene la connessione. Io spero presto di cambiare tutto, però purtroppo ho un abbonamento che mi vincola ancora un altro po' con loro. Allora, ti stavo dicendo, conosciuto come colui che strappa i mangi, quindi il folle in mezzo alla platea, perché è veramente folle una persona del genere. Ma io non ti ho fatto una domanda l'altra volta, se non erro. Perché l'hai fatto la prima volta? Questa ce la puoi dire. Ma intendi la prima volta su Twitch o in generale? Twitch ormai c'era anche una ricompensa, no? In generale, la prima volta che l'hai fatto, perché ti è venuto questa cosa di strapparlo? Allora, la prima volta che l'ho fatto, credo sia stato con Death Note, inevitabilmente. L'ho fatto perché aveva una doppia valenza questa cosa, perché io volevo sfogarmi e dare un messaggio allo stesso tempo. Un messaggio forte che è stato totalmente frainteso, io mi sento un po' idea a chi hanno in questo caso, che racconto cose e la gente non le capisce. Perché il mio era un messaggio quasi, potremmo dire, buddista, nel senso di non attaccamento alle cose, di non voler essere schiavi di un sistema malato e perverso basato sulle prime edizioni, che non significa assolutamente niente, sulla rarità dei fumetti. Per me queste cose non dovrebbero essere rare, dovrebbero essere sempre disponibili alla portata di tutti. Cioè, creare un mercato ristretto, elitario, non che non mi faccia piacere, nel senso che wow, siamo soltanto noi che lo facciamo, siamo fighi, bellissimi, ok. Però, comunque secondo me non va bene. E strappare Death Note stava ad indicare che per essere liberi, insomma, bisognava eliminare tutti quei contatti troppo fisici, troppo opprimenti. E soprattutto contestare la politica dell'editore di cose gravi, secondo me, troppo tremenda. E quindi avevo deciso di fare così, di strappare tutto. Ah, ecco. Allora c'era, perché poi l'altra cosa che, seguendo le live, era uscita fuori, era proprio quello, il non attaccamento a queste prime edizioni, alla parte materiale di tutto questo, che poi adesso vediamo che sulle varie uscite, riedizioni e cose varie, c'è gente che sta mettendo in vendita, non so se è il trend del momento, ma edizioni vecchie di titoli importanti a prezzi esorbitanti. Sì, questo, diciamo, è sempre accaduto, da sempre. Io ricordo... ho fatto questo discorso recentemente, pure con le persone in chat, perché tanti manga che avevo, poi me ne sono liberato, perché noi che abbiamo cominciato a leggere e abbiamo accumulato tanta roba nei primi 2000, poi nei 2010, la gente che è venuta dopo, ancora fresca e voleva scoprire i manga, inevitabilmente si trovava nella condizione di volerli comprare, quindi noi che avevamo recuperato un po' tutto, e avevamo un sacco di cose a casa, a volte anche in due edizioni, perché avevamo un po' subodorato questa cosa, e le vendevamo, io mi ricordo che si facevano tanti soldi, si facevano soldi, nei 2010, nelle fiere, io vendevo tantissimo, e tanti manga non ce li ho più a casa, perché poi alla fine eravamo entrati in un loop dove compravamo per rivendere, compravamo per rivendere, alcune cose restavano a casa per collezione, altre invece si andava proprio lì con l'intento di compriamo tutta questa roba qua, anche con amici, insomma persone all'interno del sistema, compriamo queste cose a un prezzo e poi le rivendiamo a un altro, perché sappiamo che fra qualche anno ci recupereremo un bel po' di soldi, ed effettivamente era così, nei 2010, i primi 2010 si vendeva tantissimo, oggi un po' meno, devo dire la verità, forse non dico quasi niente, però un po' meno, c'è sempre stato, insomma, questo mercato, questa compravendita dopo, perché gli editori stampano relativamente poco, quindi poi determinate cose diventano rare, quasi subito, eccetera, eccetera. Sì, vabbè, infatti c'è un po', non dico un odio, però un po' un occhio non proprio felice nei confronti di una casa editrice che c'è proprio questo viziaccio rispetto alle altre di stampare tirature abbastanza limitate. Volevo ringraziare Gigi Talker che si è appena iscritto, e poi Johnny Dust dice, per quanto riguarda la chat, il destino aveva già deciso di legarlo a Luca dal momento in cui ha strappato Death Note. Eh ragazzi, purtroppo è colpa mia, l'importante è che mi sentiate, che c'è Caverna che si vede benissimo, tanto nel caso in cui dovessi laggare del tutto, ci sta Caverna dall'altra parte. Mi si vede a scatti, dice Guastatore, mi dispiace, l'ho detto, purtroppo ci sono un po' di problemi di connessione che in questi giorni non mi hanno risolto, ma il problema principale di fondo è che non mi hanno proprio risposto, quindi veramente sto pensando a chissà cosa. Grandi, veramente, i numeri uno. Sono proprio forti, perché poi c'è la prima parte della chiamata, è per l'emergenza che c'è in atto abbiamo i centraligni intasati, già mettono le mani avanti praticamente, quindi tu devi stare lì ad aspettare e chissà quanto ti risponderanno. Io ho letto Asadora, proprio ho quasi finito Asadora oggi, no? Ok. E a proposito di Asadora, parliamo di un grande maestro, no? L'autore di Asadora. Ma dico io, secondo te, questo manga, di questo autore, può arrivare ai livelli dei suoi altri manga? Perché io ancora non ho letto gli altri e sento parlare degli altri in un modo assurdo, no? Si parla proprio dell'Olimpo, del manga, per quando si parla delle sue altre opere. Ma in questo caso Asadora può arrivare al livello delle altre opere oppure tu dici che non potrà arrivarci, essendo un'opera recente? Ma io credo in generale che le persone tendano a sopravvalutare un po' troppo Naoki Urasawa, che è un eccellente, ottimo narratore, ma non è slegato da quelle regole di racconto e di periodicità giapponese che inevitabilmente vanno ad allungare o a rovinare i suoi manga, pure i più famosi, come per esempio 20th Century Boys, che addirittura fecero il film di questa serie importante, famosa, e Naoki Urasawa disse «Azi, il finale è ancora più bello del mio finale, quasi quasi è meglio quello del film». Monster pure soffre di lungaggini tremende, che sinceramente ci si poteva anche risparmiare, veramente troppo lungo per quello che racconta, anche se è sempre scritto bene, è sempre realizzato bene. Secondo me i suoi manga migliori sono Happy, sono Pluto. Pluto? Pluto ci vedevo in vendita su un sito, infatti c'è un ragazzo era un po' indeciso, dice «sto per venderlo». Ho detto «mah, quasi quasi lo tengo d'occhio, tanto stasera c'è il caverna in diretta, gli chiedi un po' anche un consiglio». No, Pluto, Pluto è assolutamente da vendita. Anche perché Nagasaki, il suo editor, collega, che lo aiuta tantissimo lì, entrambi sostenuti dallo spirito di Tezuka, che gli fa scrivere questa storia potentissima, e funziona molto bene. Infatti c'è un modo simile di raccontare il mostro in Asadora e in Pluto, perché si indugia sempre tanto sul mostrare, sul rivelare la creatura, fino a quando poi non esplode completamente in un momento di grande drammaticità, pure di follia in Pluto. Qui in Asadora ancora non lo sappiamo, però Asadora secondo me ha tutte le carte in regola per diventare un buon manga di Urasawa, che forse è meglio di un ottimo manga, oppure di un manga troppo sopravvalutato. Un buon manga che si vede che si sta divertendo nel raccontarlo. Non sarà ai livelli di Billy Butt, sicuramente, anche se non ha perso quella sua autoreferenzialità, perché comunque i personaggi sono sempre un po' troppo coscienti di se stesso, come a volte fa questi personaggi che si muovono all'interno della storia, è come se fossero un suo avatar, come se fosse proprio una parte di sé all'interno della storia. Questa, insomma, un po' si vede tanto in Billy Butt. Però anche se si nota un pochettino di nuovo in Asadora questa tecnica, non mi sembra male, non mi sembra male. Infatti gli do fiducia, io lo leggerò. Ho preso il primo volume, lo leggerò tranquillamente. Io ho preso il primo volume e ho detto lo leggo, poi da lì vorrei capire un po'. E devo dire che si vede un modo di raccontare diverso, proprio diversissimo da quelle che sono le opere che si trovano in giro solitamente, capito? Cioè tu vai, prendi un'opera, qualsiasi. C'è un modo di raccontare delle cose che almeno a me sta piacendo. Cioè sembra veramente che tu sia trasportato da quello che stai leggendo in quel momento e che stai vedendo. Sayonara! Grazie mille a Tommaso Valietti per il follower. Io ti volevo dire, ti volevo ringraziare per questo consiglio invece. Che appena... Il manga. Perché giustamente tu anche oggi, io seguo pure le tue storie oltretutto, dici che oltre che conoscere, perché stiamo laggando purtroppo, vedo il nero, oltre che conoscere il manga in generale, quindi letture del manga, quindi delle opere, bisogna anche conoscere quello che c'è dietro. E invece nella storia di oggi anche hai consigliato un libro per quanto riguarda la storia dell'arte. Sì. Quanto è grande il tuo attaccamento alla storia dell'arte? Questa è una domanda che mi sono fatto perché ho detto, wow, sta consigliando un libro che parla di storia dell'arte, quindi è una cosa molto importante. E quindi ho detto, fammi chiedere anche questo. Ma guarda, è una di quelle mie cose un po' inespresse, irrealizzate, perché magari avrei voluto frequentare belle arti, avrei voluto scoprire di più quell'altra parte di un mondo che ho sempre visto solo da lontano, che comunque me lo sono studiato, perché inevitabilmente delle tecniche pittoriche, dei modi di composizione validi da utilizzare sempre nei campi artistici più disparati sono utili. Ho studiato un po' di Leonardo, ho studiato un po' di Caravaggio, un grande pezzo di merda, un assassino. I migliori sono sempre più storti. Sì, quasi, quasi tutti. Van Gogh lo adoro tantissimo, Leonardo da Vinci potentissimo, e anche il Michelangelo. Mi sono sempre detto che per quanto io adorassi c'è Leonardo da Vinci, no? E sai, uno di quei personaggi quando ti chiedono quale personaggio storico vorresti incontrare, ho sempre risposto da Vinci, per un motivo particolare, perché era genio a 360 gradi, quindi non si parlava lì solo di arte, e lì si parla proprio di genio a 360 gradi, però mi sono anche... Quella, amici, è sempre ammantato di quell'aura strana, no? Di misticismo, chissà che cazzo ha fatto. E ho detto la stessa cosa, ho pensato, però magari se lo incontrassi capirei di quanto folle fosse, oltre che geniale. Comunque mi piace perché il pelato su Twitch dice si parla molto più di manga con Caverna nel canale di Carmine che non nel canale di Caverna. Pazzesco! Sì, 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 ma perché la chat, perché la chat mi trascina in certi posti... È quello che stavo dicendo, è quello che stavo dicendo, perché io ti vedo... Poi a volte, per diciamo, come dire, per sembrare pure uno che veramente capisce queste cazzate nei canali stranieri, facciamo vedere che lo so davvero. Comunque sinceramente, come storia dell'arte naturalmente, oltre a quelli classicissimi, che adoro, ma a me piace tanto il Sorò, poi anche Hopper, Hopper come pittore americano, secondo me è uno dei più grandi. Che non ho mai studiato, ha detto questa cosa, non l'ho mai studiato. È uno dei più grandi in assoluto, quello che veramente mi piace più di tutti. E il movimento preferito? Io poi ho scritto, il bello è che il titolo della nostra live è Il Manga, perché giustamente il libro... Il Manga. Il Manga. A parte che la prima cosa che mi hanno chiesto, appena sono arrivati, appena è arrivato il tuo ride, cosa è successo 21 anni fa? Ho detto, ragazzi, quello lo può dire solo Domenico. Solo Domenico può dire questa cosa. Ma, però, ti stavo dicendo, alla fine era il manga per cominciare, ma parlavamo un po' di tutto. E a proposito di arte, qual è il periodo che ti è piaciuto di più? Ma, in realtà, siccome sono molto legato al cinema, al fumetto, inevitabilmente tutti quei movimenti di pop art, tutti quei movimenti, anche un po' più vecchi, quelli del futurismo, che comunque hanno portato immagini costantemente in movimento, e mi colpiva tantissimo. Quindi, direi, forse direi proprio il futurismo, anche se, vabbè, diciamo, là in mezzo a quella corrente ci sono finiti un sacco di destrorsi del cazzo. Però, è interessante, cioè era interessante, secondo me, il modo in cui immaginavano come la spazialità poteva essere riempita dai movimenti umani. Poi, dopo, insomma, sono uscite forse un sacco di cose pazzesche. Ma pure il cubismo, in realtà, mi piace molto, perché c'è sempre un'idea di movimento. Cioè, non è qualcosa che ridà un'immagine statica. Guarda, non me lo sarei mai aspettato, ti dico la verità, ma abbiamo praticamente gli stessi identici gusti sotto questo aspetto. Perché? Per dirti solo che all'esame ho portato cubismo, futurismo, e cubo futurismo, perché poi la cosa bella è perché sceglierli singolarmente quando c'è stato un movimento che li ha legati entrambi. E noto una cosa, per questo poi io ho seguito anche il tuo consiglio, ho preso il manga, appunto, questo libro, per cominciare a studiarlo. Perché prima di studiare tutto questo, o comunque chi non l'ha studiato, pensa che siano semplicemente, da una parte, disegni a random di figure geometriche, e dall'altra invece linee veloci così. Senza sapere che in verità sotto c'è tanto studio, e poi uniti insieme, cioè per me era il vecchio 3D praticamente, hanno anticipato il tridimensionale in un modo assurdo. Comunque... Chiaro, ma infatti bisognerebbe ricordare che Picasso era praticamente Michelangelo. Cioè lui sapeva fare le cose che faceva Michelangelo, però da ragazzino. Cioè senza un'ottima conoscenza della costruzione di base del corpo umano, del disegno del corpo umano, non lo puoi scomporre come faceva Picasso. Ecco, c'è da dire che Picasso non è solo quello che scomponeva e basta, a parte tutti i suoi periodi, che poi tra l'altro ormai c'è un manga che ne fa puramente riferimento, che è Blue Period, che hai letto se non erro, vero? Yep. E cosa pensi invece di quest'altra opera che mette al centro di tutto l'arte? Ma ti dirò, finalmente vedo qualcosa che non è proprio scontato e che sostanzialmente usa l'arte, ma l'arte vera, l'arte realizzata anche dai ragazzi che studiano, perché all'interno del manga ci sono diversi esperimenti, i protagonisti dipingono sul serio. Però quei dipinti non sono creati dall'autore, sono creati da tanti artisti, ragazzi, che frequentano l'università di belle arti, sparse per il Giappone, che gli hanno mandato i disegni e lui li ha inseriti all'interno del fumetto. Ed è una cosa molto particolare, molto bella. Diciamo, diventa un'opera curale, diventa una cosa che, esattamente come l'arte appartiene a tutti, e che è realizzata da tutti. Poi certo c'è pure arte di merda, però quella che riesce ad emozionare, prima o poi diventerà, cioè troverà un posto giusto nel mondo dell'arte, che possa essere anche soltanto quello di arte di merda, magari poi si arriverà a quel punto là, esiste solo quel tipo di arte brutta, o amatoriale, ecco, diciamo amatoriale. Blue Period nel suo essere scarno, nel suo essere un fumetto di istanti, di momenti intimi, riesce a regalare delle belle emozioni e racconta bene quello che sostanzialmente serve per fare un manga, cioè capire l'arte. Per fare il manga non devi sapere come funziona la stampa, come funziona l'editore, che cosa fanno gli editor, e tu che devi capire come si scrive e devi capire come si disegna. Questo devi capire due cose, cioè a seconda di quello che vuoi fare e a seconda di se sei un autore completo oppure no. Cioè per fare i fumetti devi capire come si fa una sceneggiatura e come si disegna. Non ti serve un'altra cosa, io devo capire il retroscena del mondo e fare i manga, e tutti quelli che sono ispirati a questa roba qua finiscono con la testa nel cesso perché non serve assolutamente a niente. Invece Blue Period è molto onesto e racconta poi delle cose basic che servono a tutti, però. È vero, tu non so, che scuola hai frequentato alle superiori? Qualcosa sul classico? Dove sei andato alle scuole superiori? Allora, io ho fatto l'IDIS. Ah, il buon vecchio ISIS. Ho fatto il tecnico, perché ho fatto il tecnico, io sono capo giovanotto di macchina, che sostanzialmente mi ha dato quello che all'epoca era considerato un diploma finito, che ti permetteva di lavorare. effettivamente, poi ho lavorato, ho lavorato anche in qualche azienda chimica. Io sono capo giovanotto di macchina, penso, una cosa potentissima. E facevo tutti i poff e tutti i pon possibili che riguardassero cinema, fotografia, giornalismo, Sì, perché mi passano così, praticamente. Sì, 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 è verissimo. Diciamo, tutto quello che non era IDIS lo faceva. Anche stando pure di più alla scuola. L'importante è che è questo. Era una cosa che... Sì, 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 tutto quello che, diciamo, amavo, poi me lo studiavo a parte, insomma, erano quelle cose che scoprivo da me, per fatti miei, compravo un libro, insomma, guardavo film, andavo al cinema, e cose del genere. I fumetti, eccetera, eccetera. Allora, ho visto che ci hanno scritto anche a proposito di arte. Io rimango legato al buon vecchio Andy Warhol, dice Fersark, poi invece sotto, visto che si parla di pittori, pareri su Bosch, penso Bosch si pronunci Bosch, e Beksinski. E allora, io ho visto Beksinski, è macabro, ho sbaglio? È un po' macabretto come... Sì, ma pure Bosch, non è che è leggero. Bosch, quindi, infatti ha tirato fuori tutte cose tranquillissime, insomma, mondi distopici, mostri. Bosch, fra l'altro, alla base di tante ispirazioni di Miura Kentaro per Berserk, è sempre presente, insomma. Io ti stavo proprio chiedendo quello, lo sai, stavo dicendo quanto influisce poi la storia dell'arte su alcune opere, e nel caso avevo pensato a Berserk, ma hai appena citato perfettamente la cosa, quindi, in che modo, secondo te? In che senso? In che modo, scusa? Nel senso, un pittore, come fai a renderti conto che magari un artista abbia come punto di riferimento con un determinato studio? Conoscendolo. Ah, conoscendolo. Conoscendolo, se no, non lo puoi mai sapere. Ci sono tantissime cose che troviamo all'interno dei manga che sostanzialmente non vengono dai manga, e magari vengono, magari uno leggendo Usamaru Furuya, per esempio, può trovare tante cose nel mondo della storia dell'arte, tutte diverse, ma anche Yoshiro Togashi, pure in Hunter Hunter, qua e là ci sono dei riferimenti all'arte classica, però il problema è questo, cioè se non conosci quell'arte, non puoi fare, ecco, non lo puoi fare. E purtroppo, insomma, ecco, uno per capire un manga che deve fare? Si deve studiare 13.000 cose? Che poi, che poi il bello è quando si dice ma alla fine sono ma che leggi fumetti? Cioè, è la domanda che viene fatta di solito, no? Ma leggi fumetti? Però poi vai a vedere dietro cosa c'è e io l'altra volta ti sentivo parlare di Devilman e di tutto quello che fosse il mostrare parte del subconscio in questo manga e quindi da lì ho detto wow, cioè, ora vado a vedermi caverna cosa sta dicendo per le prossime volte proprio perché è proprio bello scoprire di questi riferimenti o comunque l'autore cosa vuole dire oltre le sue tavole. Comunque ci dicono Bosch era tanta roba, Bosch base per Berserk e Devilman che abbiamo appena citato, appunto, Bosch era avanti anni luce, i mosti del trittico delle delizie, reference chiara, ci dice Rob Katsuragi, poi abbiamo i giornaletti, non so, questa forse sarà una cosa tua, pensavo giusto a Berserk, mi sembra in alcuni riquadri in un tardo evento spoiler, lo cita diretto, esatto, 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 ecco, abbiamo fatto pure il riferimento, vabbè, giusto che, penso che artisti che vengono influenzati da altri artisti o comunque che abbiano dei punti di riferimento è basilare, non puoi pensare di, secondo me, di fare arte senza aver prima studiato, comunque avere un punto di riferimento nell'arte stessa, c'è capito? Come se uno volesse fare uno scrittore e diceva che faccio uno scrittore e comincio a scrivere ma non ho mai letto e non so a cosa posso fare riferimento. È difficilissimo anche perché la nostra, comunque la nostra cultura in generale la cultura umana è emulativa, cioè comunque inevitabilmente finiamo per prendere qualcosa dagli altri, da più persone mischiandola insieme e creando qualcosa di totalmente nuovo e è difficile che venga uno stile in testa a una persona che non sa niente. È molto difficile questo che accade, a meno che non succeda un miracolo. Un genio, un genio, potremmo chiamarlo nuovo un genio. Poi ti fanno, penso, una domanda a parere su Oyasumi Poon Poon di Asano. Molto bello, secondo me l'opera della maturità di Asano e il modo in cui anche lui comincia a mischiare fotografie, in realtà fumetto, creando degli strati in più all'interno della storia, delle sconnessioni mentali che diciamo hanno sempre fatto parte del suo racconto, però con una ferma precisione di un determinato racconto che stavolta non si perde nei meandri della sua follia. È un'ottima, è veramente un ottimo racconto riformazione con la storia probabilmente di una generazione intera giapponese totalmente allo sbando che ora ha capito forse come sopravvivere allo sbando. Ecco, se vedi i primi fumetti di Asano sembrano le cose di una bassezza intellettuale unica, nel senso che è un quindicenne che scopre il mondo e impreda tutti quei desideri, quelle emozioni, racconta delle cose, racconta delle cose che sono abbastanza orribili. Invece Buonavotte Pum Pum è il racconto suo della maturità e adesso poi è diventato un autore perfetto in quello che fa come erede di una scuola di pensiero che possiamo identificare iniziata con Shigeru Mizuki sicuramente Shigeru Mizuki faceva la stessa cosa che fa lui cioè grandi paesaggi naturalistici perfetti personaggi di comodo personaggi buffi simpatici all'interno poi Mizuki lo faceva per raccontare il Giappone con i mostri per non perdere quelle storie del Giappone Asano lo fa per raccontare lo spaisamento il disorientamento sociale che c'è oggi in Giappone quindi comunque entrambi fotografano il paese in una maniera unica e utile direi è molto utilizzata in Giappone quella questione di fotografare le questioni interne e portarle su manga a questo punto su carta o su quello che sia che in realtà è una cosa bella secondo me perché comunque dai anche a parte valore a quello che stai facendo perché comunque gli dai un senso perché vedere opere così o comunque campatenare che poi alla fine un senso non ce l'hanno potrebbe comunque risultare più noioso comunque meno accattivante rispetto a quando poi vai a scoprire che dietro quella determinata cosa c'è una realtà questa è una cosa che poi magari ti fa anche fare due domande ti fa appassionare ma ancora di più potrebbe comunque essere un cerchio continuo a quello che poi è il paese di riferimento perché tanti si fanno mille domande sul Giappone proprio perché hanno letto magari un manga che fotografava un aspetto di quella nazione e dopo dicono oh però se è così veramente o perché è così veramente e quindi vanno anche a visitare io sono uno di quelli che vorrebbe andare a visitare che non ha ancora visitato il Giappone ma che tramite quello sono ancora sono ancora vergine di Giappone e come è possibile avevi già in programma il viaggio verso la si doveva fare quest'anno praticamente ovviamente ovviamente mi sembra giusto sì 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 e non ti chiedo manco come mai è saltata perché tutto il mondo sa perché saltano i viaggi in questo periodo esatto quindi insomma la sfiga incredibile io convinto avevo puntato un viaggio agli inizi di dicembre in Giappone e poi è di nuovo la stessa cosa quindi ho detto no vabbè non rischio manco per sogno da quando conosco il caverna guarda che c'è forse una bella domanda mi sono sempre fatto queste domande che vorrei rigirare anche a Carmine come inizio a studiare manga per capirli e la figura retorica del simbolismo come fate ad analizzarla ed infine come si analizza in toto un manga allora io rispondo in prima parte piccola a Fersark perché so meno di caverna ragazzi è giusto ammettere una mia professoressa una volta per mi abbassò un voto per questa cosa perché io non avevo ammesso io sapevo di sapere un po' di più dell'altra però in questo caso non dovevo sottolinearlo e disse anzi è giusto ammettere quando si sa e quando non si sa dico che ti rispondo la minima parte poi penso che il caverno possa essere molto più esaustivo io sono andato a vedermi proprio sono andato proprio a studiarmi come analizzare i manga ma questo perché l'ho fatto perché sul canale youtube porto delle recensioni ho visto che alla fine non erano delle recensioni perché sono andato a studiarmi come recensire e come analizzare un manga e ti posso dire che la base proprio se vuoi cominciare è cercare appunto appunti che trovi o comunque impostazioni che trovi ma non solo su come analizzare un manga ma su come analizzare in generale gli scritti e quindi già da lì potresti cominciare poi studiarli studiarli per esempio io vi rimetto davanti ormai tanto non l'ho posato il libro consigliato da Caverna il manga dove appunto si parla della storia degli universi del fumetto giapponese proprio perché ho notato quanto fosse importante oltre che leggere i volumetti stessi proprio cominciare a leggere qualcosa per capire cosa ci fosse dietro e per la figura retorica e il simbolismo io lì devo per forza alzare le mani e lasciare la parola a Caverna ok allora ma in generale non è facile allora non è molto semplice prima di tutto perché sono i manga una cosa che non ci appartiene cioè diciamo un racconto che è totalmente lontano dal nostro e noi di solito quando raccontiamo le storie abbiamo anche un po' mutuato il racconto americano cinematografico di fare la storia in tre atti per i giapponesi invece la storia è spesso in quattro atti c'è sempre un colpo di coda finale rispetto a noi che abbiamo diciamo questa voglia di chiudere e standardizzare le cose poi a volte questi tre atti poi diventano lunghi stretti a seconda di del genere che raccontiamo però in generale quello che serve per analizzare sul serio manga è capire avere un po' di nozioni e di lessico sia sulla sceneggiatura che sull'art che sul disegno e inevitabilmente però questo poi si forma pure leggendo tante cose diverse non è che uno leggendo soltanto i giusti insegnamenti e due manga può capire tutto comunque ti serve l'esperienza ti serve capire il flow il racconto come funziona una tecnica che io utilizzavo era quella di mettere in relazione le cose cioè tipo leggendo sì sì leggendo la struttura classica del racconto aristotelico ok del racconto greco e mettendolo in sinergia con il cammino dell'eroe studiato da da Vogler oppure da Campbell con quello che leggevo cioè che cosa succede in questo manga che è simile alla struttura che funziona da diecimila anni a oggi queste cose qua allora mettiamole in relazione vediamo effettivamente perché funzionano e come va poi per una questione i simbolismi diciamo quando si parla di di manga diventa di nuovo difficile perché spesso si tende a cascare nell'inganno di decodificare i manga attraverso i nostri sistemi che è sbagliatissimo perché naturalmente non tutti i mangaka hanno studiato aristotele non tutti i mangaka hanno letto mechki non tutti i mangaka hanno questi sistemi che utilizziamo noi e spesso spesso per esempio alcune cose giapponesi vengono dalla loro cultura e da cioè chiaramente sempre viene dalla loro cultura volevo dire dalla loro mitologia quindi bisognerebbe conoscere la loro mitologia bisognerebbe conoscere il loro animismo lo scintoismo il buddismo per fare i parallelismi cioè per esempio magari noi possiamo creare una storia che parla di di demoni angeli inevitabilmente ci rifaremo a tutti coloro che hanno si tireremo in ballo la chematria così tanto per ridere piglieremo la cabala di nuovo tanto per ridere insomma sarebbero quelle cose che noi bene o male come cultura giudai con cristiana conosciamo abbastanza bene e loro fanno la stessa cosa vanno a prendere tutto ciò che conoscono e lo infilano all'interno dei manga ma pure delle cose innocenti comiche come dragon ball conservano al loro interno un sacco di riferimenti buddhisti ma anche di preghiera per esempio quando si entra nel tempio per pregare il kami c'è sempre questa bacchetta con sopra dei sonagli dei campanelli che suonano così per richiamare il kami del luogo per fare la preghiera quando Goku deve andare ad allenarsi da kami da dio che sta sopra l'obelisco di Karin Karin gli dà un sonaglino quel sonaglino che fa ridere perché è un gatto che ha la campanellina ma è anche la campanellina che si mette sull'asta per chiamare il kami da cui sta andando praticamente quello è il lascia passare che gli dà perché fa parte della cultura di Toriyama inserire quella roba là e quindi bisogna studiare un sacco di roba non è facile a volte non è proprio facile cogliere poi tanti riferimenti vuol dire che uno deve avere anche un'ampia cultura di quello che è il mondo orientale o comunque il mondo giapponese in questo caso perché magari si fa prettamente riferimento al mondo del Giappone si vede che il fumetto dice Starfang che è una cosa intelligente quella che dice secondo me è l'unico modo efficace di parlare di argomenti sensibili senza scomodare le forze politiche perché non li leggono con serietà a parte che ultimamente è uscito anche il caso Zero Calcare quindi che mi sembra che sia stato citato dopo non vengono letti con serietà però ci sono nazioni che ho notato che comunque danno peso all'universo animato o all'universo del manga in quanto faccio un esempio come la Cina forse perché sono vicini di casa dei giapponesi tendono a fare più censure rispetto ad altre nazioni facendo proprio riferimento a quello che potrebbe essere l'influenza che quel determinato anime quel determinato manga avrà sulla propria popolazione che per noi è una cosa che sembra quasi strana però ci sono nazioni e ho visto nazioni che hanno fatto delle censure se non era anche la Russia ne ha fatto una molto strana al riferimento ma più di una penso perché conoscendo un po' i russi penso che abbiano censurato più di qualche cosa proprio perché per loro influiva negativamente sul modo di pensare della popolazione e quindi in realtà forse in Italia non li vediamo o comunque ci sono nazioni che non li vedono con determinati occhi ma questo fa pensare che ci sono invece altre nazioni che in realtà gli danno un grande peso forse perché sanno poi quanto mercato hanno in verità queste cose curiosamente lo stesso è verissimo perché poi cioè diciamo gli studi di produzione i produttori sì fanno le cose in riferimento al pubblico che loro hanno però sanno che ormai con internet queste storie sfuggono al controllo regionale che si può avere quindi inevitabilmente anche cartoni animati cinesi come per esempio Fog Hill of Five Elements che è un cartone animato cinese potentissimo però è un cartone mitologico un cartone storico finto storico mitologico dove ci sono tutte queste creature che combattono tra loro diciamo vabbè prima o poi arriva infatti è arrivato pure da noi però appunto proprio perché arriva meglio non parlare di cose che hanno a che fa con la politica parliamo appunto di storia io vedo un sacco di film cinesi che sono parastorici insomma che adesso fanno tutti quei push con questi eroi che devono combattere sempre contro un sistema cattivissimo contro nemici grotteschi proprio a livello cartone animato una villania da cartone animato totale che non sono proprio più per niente realistici cioè ci siamo allontanati totalmente da quello che era il cinema di Bruce Lee non ne parlevamo proprio poi Jackie Chan diciamo aveva raccolto un po' quell'eredità pure di parlare sostanzialmente di politica però in America quando è diventato forte in America e in Cina comunque faceva sempre i vusha di merda e ora è tornata i vusha di merda di nuovo proprio uguale mamma ne ho beccato uno ridicolissimi mi ricordo ancora che poi ci sono alcuni importanti tipo A Touch of Zen sicuramente uno dei picchi più alti di questo recupero vusha inevitabilmente ha fatto bene adesso parli di fatto bene o di fatto male no no di fatto bene di fatto bene A Touch of Zen sicuramente da vedere mi ho beccato un'ottima vita che era la ricerca di un film simpatico perché Jackie Chan ha dalla sua parte la simpatia poi e ho visto questo io ho dovuto toglierlo cioè non mi è mai capitato di togliere un film di Jackie Chan io quello non l'ho tolto non so il nome ragazzi no ma è meglio vedere meglio vedere quelli di Detective ve lo direi per curiosità sai già sai già cosa ti aspetta comunque dice Stan Goblin curiosamente è lo stesso anche in Italia da quel che vedo quindi penso che delle questione manga e forze politiche saluto Queen Black Diva che è appena arrivata ciao Queen poi sempre Star Fang solo che in Giappone l'industria è più fertile rispetto a quella italiana anche se non è sicura quanto quella francese inoltre in Italia sono presenti alcuni fumetti di impegno tipo quello di Zero Calcare a proposito della diciamo dell'editoria francese a parte che loro hanno un riferimento grandissimo che è quello di Tony Valente che è l'occidentale che ha scombussolato praticamente quello che era all'universo del mangaka solo giapponese ma secondo te l'industria italiana sotto questo aspetto potrà mai raggiungere il modo di pensare di quello francese che poi in realtà è a due passi da noi quindi secondo te siamo indietro o semplicemente abbiamo un punto di vista diverso questa è la domanda diciamo principale che volevo farti rispetto ai francesi ma guarda non ci siamo riusciti nell'epoca d'oro negli anni 70 negli anni 80 quando il fumetto italiano diciamo ormai stava stava per finire da un punto di vista storico insomma il fumetto indipendente poi è rimasto silente per molto tempo cioè quel fumetto grottesco indipendente poi era diventato l'istituzione con Frigider con Liberatore con Pazienza con Scozzari cioè non ci siamo riusciti in quel periodo dopo aver perso Micheluzzi dopo aver perso sulla strada da Ugo Pratt non credo ci riusciremo in breve tempo la Francia ha sempre ritenuto molto più valido il contesto artistico e tenuto in ottima considerazione rispetto a noi che per qualche misterioso motivo siamo stati legati a ricordare le cose cioè io non capisco perché il fumetto è stato tenuto in ottima considerazione comunque anche dai regimi italiani tipo Mussolini aveva dato libero libero uso e pubblicazione di Mickey Mouse di Topolino cioè di tutte le cose che non si potevano fare durante quel regime i fumetti Topolino lo puoi fare cancelliamo tutti eccetto Topolino che poi dopo insomma esploderanno tantissimi fumetti in Italia dopo però non hanno non riescono ad avere presa perché forse la mentalità dell'italiano che in generale è abituato a un lavoro pratico pure il lavoro di concetto in realtà italiano è un lavoro che deve essere fatto pesante non può essere un lavoro fatto eh ma lavorare al computer quello non sta lavorando cioè pure il lavoro di concetto deve essere pesante noi siamo molto più vicini ai giapponesi di quanto non si creda perché i giapponesi uomini che lavorano devono devono morire di carosci devono soffrire se non soffrono non stanno lavorando ed è la stessa stupidaggine che pensano la maggior parte degli italiani ma da sempre cioè sembra che forse perché noi siamo sempre stati in un paese abbastanza pratico insomma la maggior parte dell'Italia si reggeva sull'agricoltura e un paese dove agricoltura allevamento insomma sembra che non ci siamo staccati da quello che si faceva mille anni fa a oggi nel frattempo poi c'era chi si arricchiva aveva la possibilità comunque di scrivere e di creare l'arte attraverso la tipografia c'era chi aveva la possibilità di dare soldi a chi dipingeva e si creava per fortuna anche un altro tipo di lavoro artistico però in generale forse è pure dovuto al fatto che gli artisti per la maggior parte del tempo perdevano i tempi stavano a grattarsi un po' la pancia forse non è che effettivamente tutti gli artisti stavano a disegnare tutti tutti i giorni però non è non è sicuramente un buon metro valido da utilizzare oggi c'è chi campa di arte c'è chi campa facendo fumetti chi campa facendo cinema chi campa facendo musica e bisognerebbe comprenderla e rispettarla ma in generale vedo che questa idea è difficilissima da far attecchire in Italia perché devi tirare la zappa se tiri la zappa stai lavorando tantissimo pure i caporeparti nelle aziende wow quello se non lavora 12-15 ore al giorno non sta lavorando ma porca troia ma perché non te ne vai a casa invece di rompere i coglioni perfetto se non lavora non sta lavorando non lo so veramente una follia un sistema che io spero muoia al più presto come questa nazione che cada al più presto possibile ed ecco qua questo è dissing contro tutta la nazione direttamente perché ci voleva siamo stati fin troppo seri infatti però devo dire che l'altra cosa che dice Stan Goblin è vera sotto questo aspetto perché dice non è un paradosso che su un'industria così fettile non cada l'occhio delle personalità politiche alla fine se tu vai vedendo le fiere dove si parla di manga di fumetti di videogiochi in generale parliamo del Luca Comics possiamo parlare del Romics del Comic Con e di altre realtà Milano che si è allargata quindi di queste realtà si registrano numeri altissimi quindi la domanda è anche giusta come è possibile che le sfere politiche stiamo parlando di poligama in generale ragazzi si parla così per far capire magari perché uno prende sotto gamba questa cosa caspita calcola che Luca fa 200.000 cristiani com'è che le persone continuino poi ad avere quest'idea che il fumetto sia sempre un passo indietro quasi rispetto alle altre arti ma dico arte che non lo sanno prima di tutto c'è il pregiudizio incredibile prima di tutto c'è un pregiudizio totale che non questo non si può proprio staccare ma un pregiudizio dovuto pure all'aspetto alle personalità che ruotano intorno al fumetto diciamoci la verità non tutte le persone che leggono fumetti e che fanno fumetti sono piacevoli in generale la maggior parte sono rovinate la maggior parte sono brufolosi ragazzi schifosetti puzzano pure un po' ciccioni come me quindi inevitabilmente non è una cosa piacevole poi in generale se ti piace il fumetto non ti deve piacere la compagnia perché devi stare da solo è una cosa che devi goderti da solo quindi già ti preclude un sacco di cose vedi quel tizio se tu sei dall'altra parte vedi quello che sta da solo che leggi e dici quello è fissato è pazzo in generale comunque noi non diamo una bella immagine questa è una grandissima verità la maggior parte delle persone che si rifugiano all'interno dei fumetti non sono persone piacevoli da frequentare o belle a vederci questo è inevitabile purtroppo non possiamo prescindere da questa cosa qua magari possiamo fare un vanto e una forza di questa cosa come hanno fatto chiaro 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 e poi soprattutto nessuno lo sa nessuno conosce il fumetto perché non se ne parla perché non non si fa una vera campagna non si fa una vera promozione non non si è presenti davvero sul territorio a volte sembra che per gli editori l'importante è che vendano quel giusto e poi basta senza essere effettivamente influenti nella vita dei lettori quando poi lo sono per mille motivi però non riescono a farsi strada nella nella cultura di tutti i giorni questo dovrebbe essere ciò che potrebbe far conoscere il fumetto a tutti che non è soltanto per quelli che già leggono ma per quelli che un giorno vorrebbero leggere che avrebbero qualcosa da scoprire all'interno di quelle letture tenendo bene a mente insomma che già il media è funzionale che i fumetti sono ovunque intorno a noi in realtà anche nelle pubblicità sia in televisione che anche sulla cartellonistica nelle riviste cioè proprio il media del fumetto è dappertutto però certo non viene valorizzato però io posso dire una cosa perché ho letto Flair che poi tanti politici ci stanno sempre quando devono girare intorno quando si deve quando si deve girare intorno sai il grande evento no vabbè ma adesso andiamo subito a pubblicizzare supportiamo tutto il resto dell'anno babbo morto è vero però devo dire una cosa io ho letto Flair Zero di Salvatore Pascarella che è un autore italiano cioè un artista italiano che praticamente ha più successo in Francia e devo anche però scoccare una lancia a favore dei francesi perché? perché lui a parte che ha cominciato prima la pubblicazione in Francia e va bene ma io da lettore ho messo una storia sia taggando la casa editrice italiana sia quella francese anzi no addirittura la prima volta avevo taggato la casa editrice italiana e l'autore l'artista guarda che sono stato contattato dalla casa editrice francese sono stato ringraziato per aver acquistato un volume ma viene un ragazzo in un'altra nazione quelli cosa hanno fatto hanno visto che il loro artista era stato taggato in una storia mi hanno ringraziato per aver acquistato il volume e hanno ripostato la mia storia cioè dall'altra parte niente non che uno volesse essere riconosciuto ciao grazie di vero cuore sei stato favoloso no ma proprio l'interesse che già la casa editrice ha nel confronti dell'artista che sta appunto portando sul mercato e anche dei lettori perché se tu mi ringrazi guarda a parte sono stato felicissimo glielo ho scritto ho detto guarda non mi aspettavo di certo di essere risposto da una casa editrice ma poi porti anche magari un'affezione diversa cioè ti affezione anche diversamente all'autore perché vedi che l'autore dietro ha delle persone che magari ti ricondivide quindi esiste ma ti ricondivide come ti lascia una cosa anziché non cagarti proprio che è possibile perché una casa gigante possa non cagare però vedi già questa differenza fa capire che lì c'è un interessamento diverso questo è il fatto di prima che mi è venuto in mente poi ci sono alcune cose che non a parte pelato su twitch che ci ha messo bau 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 rob katsuragi ma lo utilizzano anche come strumento dice c'è un anime cinese della storia del giovane marx si trova su youtube quindi ragazzi se vi interessa il giovane marx potete andare su youtube e trovate l'anime cinese posso fare anche lo spam c'è anche il mio canale youtube è quello di caverna di platone cioè ci sono entrambi i canali su youtube quindi ragazzi andate ad iscrivervi io sono prossimo ai novecento un minimo numero rispetto a caverna ma spero di arrivare un po' ma non conta niente poi non contano neanche i minimi non contano niente quella è una cosa che ti volevo chiedere all'inizio live magari leggiamo queste cose e ti chiederò questa cosa cioè non è proprio una richiesta ma è una nota che così chiudiamo che devo andare eh sì 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 l'italia non ha tutte queste non ha tutte queste fisse come la Cina se non qualche polemica su qualche serie come quella sui trans della Disney oppure le polemiche sono ristrette tra addetti al settore come quello di giorni fa vabbè questo l'abbiamo citato prima i politici intervengono si si diciamo si finisce sempre per litigare per fare tagli come l'ha aggiunta Umbra che vuole chiedere il museo di Frigidaire Frigidaire ma il fumetto è pensante aspetta ma il fumetto è pesante da fare e da vendere mi associo ho sempre avuto da quest'altra parte Stan Goblin dice ho sempre avuto l'impressione che in Italia il fumetto dovesse sempre essere politico tra virgolette per essere preso sul serio a differenza di situazioni come Marvel o DC che affrontano i temi sociali pur essendo escapismo e questa pure sono stati furbi loro è davvero così o è un'idea mia sbagliata no no è veramente così ma in generale in Italia pure se non fa il film se non fa il film di mafia se non è impegnato il film politico non è riconosciuto il film sulle forze di polizia non è riconosciuto cioè deve essere sempre quella cosa che identifica quel periodo della Milano vittima di sparatori tutti i giorni cioè se non se non torniamo sempre questa cosa dobbiamo sempre ricordare di nuovo l'Italia deve sempre ricordare non è mai capace di fare una cosa in questo momento è vero tutta la vabbè questa è una citazione la citazione fatta tu a babbo morto questa ha fatto ridere welcome to lucca not comics and game dice sayonara grazie mille a izu izuku might che si è appena iscritto al canale cioè mi segue adesso su twitch ringrazia mille poi ringrazia il concetto di da scarico dietro al medium artistico che ha flagelato la produzione italiana questo l'ha detto star feng ancora fair sark dipende pure da editore editore giustamente io non ho detto io non ho fatto nomi infatti e sempre planet manga e baopla publishing ripubblicano anche il fumetto aldrobrando di gp è stato pubblicato prima in francia e poi in italia beh qua c'è una domanda star feng in che senso dai 900 iscritti carmine inizio extract di caverna dai che a 900 iscritti io già l'ho fatto ragazzi ho già letto extract di caverna è così che poi l'ho avuto la prima volta in live ha già recensito allora fair sark iscriviti iscrivetevi anche voi così fair sark reggerà extract di caverna poi bene se non sei diretto con i significati se non metti le stesse menate retoriche non sei un film telefilm meritevole investimento di premiazione vabbè questo l'hai appena detto tu comunque censurano molto di più in usa in USA che in Italia dice nerds 1926 questo è verissimo a livello di sesso a livello di violenza censuradissima ecco sì infatti ha anche detto non parlo solo di fumetti ma di media in generale quali pure sui videogiochi da sempre è stato così ora l'ultima cosa così poi ti lascio andare perché hai fatto già un'ora di live un'altra ora e due minuti siamo di qua ti volevo dire il successo sayonara il fenomeno stangoblin grazie mille il fenomeno caverna di platone su twitch secondo te secondo te ora io mi viene proprio da chiedere come mai caverna di platone è caverna di platone cioè a cosa secondo te è dovuto questa tua cosa è una domanda tutti si pongono qual è il tuo qual è la tua cosa però vedere come ti dicevo io che ti ho conosciuto come colui che ha strappato il manga a colui che adesso guardo seguo che ha creato un fenomeno perché comunque la gente ti segue perché quello che dici quello che fai è interessante e delle volte cioè è anche divertente in secondo te cosa è stato a rendere caverna di platone caverna di platone ma finirei inevitabilmente per fare un po' come l'host l'host è buono il pino e che te devo dire è buono se no non te lo voglio non lo so è come domandare perché il cielo è blu no vai però io 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 faccio allora faccio faccio questo faccio questo ragionamento in realtà tutto quello che creo come contenuti è un esperimento cioè a me piace giocare mi piace sperimentare mi piace provare fare delle cose un po' diverse su Twitch ho sperimentato tantissimo all'inizio per vedere cosa funzionava cosa nuova ancora adesso sto continuando a sperimentare e valutare creare nuovi format e credo che Twitch in questo caso mi venga in soccorso perché io adoro creare e odio quello che creo quindi essere in costante evoluzione portare sempre cose nuove poi seguire anche il flow della chat eccetera però portare cose nuove e scoprire se funzionano se non funzionano e poi passare ad altre cose è molto stimolante per me e credo sostanzialmente che sia questa poi la forza della piattaforma che mi aiuta a sfogare quello che già mi piace fare cioè effettivamente realizzare delle cose e poi lasciarle così libere non mi interessa nemmeno poi alla fine quello che ho fatto se l'ho fatto bene male intanto lo faccio perché secondo me la vera arte sta nel processo io per esempio extract odio dai fuoco e questo questo l'ho visto nella live questa l'ho vista e visto che alla fine non era proprio una domanda tipo il cielo è blu perché è blu c'era una cosa di fondo cioè il tuo sperimentare secondo te il tuo sperimentare che poi l'altra cosa che l'altro giorno notavo è il fatto del parlavamo di case editrici poi chiudiamo il fatto che qualcuno ti abbia bussato per dire senti ma io da quando tu hai cominciato quel format ho visto solamente persone cominciare quella serie o comunque recuperarla in questi casi ci sono anche questi come dicevi tu stereotipi che purtroppo tendono difficilmente ad andare via anziché vedere la parte positiva di tutto quello che stava accadendo perché se uno gli avesse messo davanti tutte le storie che tantissime cioè assurdo io sono uno di quelli che ha recuperato un libro tramite i tuoi consigli uno se andassi a vedere quello che poi in realtà si è andato a creare piuttosto che quello che si è andato a sfasciare che è un nulla capirebbe quanto uno starà facendo comunque quanto l'evoluzione sia meglio del ricordare ecco secondo me è ancora è ancora presto di nuovo sia per l'Italia che per gli editori italiani è ancora presto riuscire ad entrare nell'ottica di cosa davvero fanno le persone per comprare i prodotti come davvero li scoprono come davvero vorrebbero essere come dire accompagnati quando io pure quando vendevo fmetti io non ho mai pensato di vendere carta io vendevo le storie e ti devo vendere una storia devo farti capire che tipo di racconto è come ci puoi entrare dentro se ti può piacere se non ti può piacere cercando sempre di portare acqua al mio mulino insomma non è che entra il cliente e dice no non c'è una storia per te va te l'affanguno no la troviamo insomma è che vuoi che non la troviamo è che vuoi che non la troviamo cioè qua in mezzo qualcosa deve uscire o no certo e inevitabilmente usciva però appunto il concetto è questo cioè uno che fa il libraio non vende la carta vende le storie uno che fa l'editore vende un processo o vende un racconto quindi secondo me siamo ancora legati alla praticità della cosa ed è ancora presto ma sono convinto che poi le cose cambieranno perché la storia ce lo insegna e quello che funziona di più va avanti quello che funziona di meno resta indietro benissimo allora io con questo chiuderei anche per lasciarti andare poverino e ti ringrazio ti ringrazio Domenico per essere stato di nuovo insieme a me in quest'oretta e ragazzi sempre un piacere grazie a tutti grazie a Domenico io vi do appuntamento alla prossima live che sarà penso martedì alle 18.30 tu quando sarai di nuovo in live invece Domenico domani domani sera domani sera domani alle 21 21 quindi domani ragazzi sul canale Caverna di Platone ci sarà Domenico alle 21 e si parla di tutto e di più ho notato che ormai è inutile dire ormai è inutile dire per il salto per il salto altissimo per il salto altissimo benissimo pulino di Platone dopo questa ragazzi io vi ringrazio ancora grazie ancora Domenico ci vediamo alla prossima grazie a te ciao